Ciao a tutti ragazzi come state? Spero bene. Volevo scusarmi con voi per la mia intermittenza di comunicazione socialistica, se così si può dire, però volevo comunicarvi e condividere con voi l'immensa gioia dopo un periodo un po' turbo lento, che già di per sé è un po' paradossale perché o è turbo o è lento, insomma. A parte questa pirlagine, volevo dirvi che sono molto contento perché sta iniziando un nuovo percorso con l'entrata in squadra di nuove persone che volevo condividere con voi. E quindi benvenuti a Andrea, Alessandro e Claudio. I cognomi non li diciamo anche per essere polite, è così. Vi volevo dire che in ogni caso abbiate ancora un po' di pazienza perché a brevissimo ci saranno delle novità. Io vi mando tanti tanti baci stabiliti.